Ridurre gli incidenti stradali, diminuire i costi sociali, sanitari ed economici, educare la popolazione, soprattutto i più giovani. Gli obiettivi sono molteplici, ma il fine è soltanto uno. Eliminare o quantomeno legnire la piaga dei morti e dei feriti sulle strade della marca, sullo sfondo l'estate più nera del recente passato con decine di morti. Come a fine anni 90 si era intervenuti sulle infrastrutture, oggi bisogna agire in particolare sui comportamenti. Le rotatorie su tutte hanno cambiato il sistema della viabilità della provincia di Treviso. Oggi non basta più, anche perché la rete sostanzialmente è una rete considerata sicura, è intervenuto questo fenomeno culturale dei device che sono diventati prevalenti nei pensieri delle persone anche quando si mettono alla guida dei mezzi e questo è sbagliatissimo, non è compatibile, punto, questo deve entrare nella testa di chi utilizza un'auto. Da qui il tavolo per la sicurezza stradale presentato al Sant'Artemio, nato dalla sinergia tra provincia, ULS2, conferenza dei sindaci, prefettura, forze dell'ordine, accanto a numerosissime associazioni del territorio, compresi i locali da ballo. È un lavoro che durerà tempo, durerà anni, ma siamo sicuri che porterà certamente dei buoni frutti e la riduzione degli incidenti. La task force si suddividerà in quattro gruppi di lavoro, uno a favore dei feriti e dei sopravvissuti, un secondo a supporto dei familiari delle vittime, un terzo gruppo si occuperà di sensibilizzazione e formazione, un quarto del miglioramento della viabilità. Resta la necessità di trovare un giusto mix tra prevenzione e repressione. Serve l'uno e l'altro, la prevenzione soprattutto perché le persone capiscono quali sono i limiti di ognuno di noi. Dall'altra parte è opportuno sempre la presenza delle forze di polizia sulla strada, ma non tanto a fini repressivi quanto anche in quel caso a fini preventivi. Il progetto è aperto, tutte le informazioni per partecipare sono reperibili di rispettare sono reperibili.